ciao a tutti benvenuti sul mio canale oggi voglio mostrarvi i filati che l'azienda lani di biella cofil mi ha gentilmente inviato per poter realizzare i miei video tutorial l'azienda lani di biella cofil in azienda italiana si trova mongrand in provincia di biella e vende filati italiani prodotti da aziende italiane è un'azienda conduzione familiare ed è leader nel settore da oltre 30 anni ho scelto dal loro catalogo online questo filato questi filati perché sono filati che io ho già testato e che amo in modo particolare l'azienda effettua la vendita dei filati sia attraverso il sito di commerce quindi online sia presso il loro store che si trova a mongrand in descrizione vi lascio il link per dare un'occhiata al catalogo dei filati dell'azienda lani di biella cofil ho già realizzato un progetto utilizzando questo cotone che io amo in modo particolare e la settimana prossima sarà online sul canale si tratta del cotone flamenco è un cento per cento cotone egiziano mercerizzato ed è prodotto dalla manifattura filati roses di biella si presenta in gomitoli da 100 grammi e in 100 grammi si sviluppano 210 metri sulla fascetta è consigliato l'utilizzo dei ferri 4 4 50 io ho realizzato il progetto con questo color fucsia utilizzando un uncinetto del numero 3 75 perché volevo ottenere un effetto un po particolare la settimana scorso pubblicato sul canale e la maglia blu marina lavorata sempre con il cotone flamenco e ho utilizzato l'uncinetto del 450 ed ho ottenuto un risultato completamente opposto a quello che ho ottenuto lavorando con un uncinetto del 3 75 quindi vi consiglio di dare un'occhiata ai video tutorial in modo che voi possiate rendervi conto che cambiando il numero di uncinetto si ottengono a prescindere dal punto logicamente si ottengono dei risultati di spessore completamente diversi la trama della lavorazione cambia totalmente ecco qui è un altro colore il colore a verde tiffany in catalogo il cotone flamenco è presente 45 colori uno più bello dell'altro vale un'occhiata veramente di dare uno sguardo al catalogo ho scelto poi un altro cotone è il cotone morbido mi piaceva tantissimo questa nuance di colore è un grigio canna di fucile questo filato è prodotto dalla manifattura filati roses di biella è un cento per cento puro cotone egiziano gasato mercerizzato il gomitolo da 100 g sviluppa 330 metri i capi realizzati con questo filato si possono lavare in acqua e 60 gradi quindi potete immaginare quanto siano solidi colori il filato è abbastanza spesso quindi penso di lavorarlo con un uncinetto del numero 44 50 io vi consiglio il numero di uncinetto però lo sapete benissimo che dipende da molti fattori dalla tensione che voi date al filato e dal risultato che volete ottenere ho scelto poi un altro filato molto bello anzi prima vi faccio vedere questo ancora il cotone flamenco in un'altra nuance di colore che è rosa corallo guardate che bella qui andiamo a realizzare insieme un capo veramente molto particolare se vi faccio vedere un po di colori ma guardate che belli che sono ma come fate non innamorarvi di questo cotone allora passiamo all'altro cotone che ho scelto è il cotone summer questo è un cotone da collezione quindi è un cotone pregiato è un bel filato è composto dal 70 per cento di cotone e dal 30 per cento di lino i capi realizzati con questo filato si possono lavare in acqua a mano ed è consigliato l'utilizzo dei ferri 45 la caratteristica di questo filato è quella di essere fiammato vale a dire che il filato non presenta lo stesso spessore vedete in alcune parti il filato è più spesso vediamo un po se riesco prendiamo un altro gomitolo che magari ecco fatto vedete il filato qui abbastanza sottile poi via via diventa più spesso questa differenza di spessore di filato fa sì che i capi realizzati siano traspiranti leggeri e molto soffici io andrò a lavorarlo sicuramente con un uncinetto del 4 4 50 poi anche qui dipende dal risultato che voglio ottenere il filato è asciutto morbidissimo e un'altra caratteristica di questo filato è quello di essere composto da due figli sono file che io dico che si abbracciano perché sono arrotolati fra di loro e creano un gioco di colore veramente particolare c'è un filato blu è un filato azzurro questo mix di colori guardate che risultato che da creeremo un capo molto bello anche questo con questo filato un capo estivo un capo semplice da realizzare ma veramente molto d'effetto io ho già in mente un progettino molto particolare passiamo ora alle rocche questa è una rocca di un colore che io amo in modo particolare lo sapete io amo tutte le nuanze del rosa è una cosa più forte di me io quando vedo un gomitolo una rocca rosa la devo prendere per forza allora questo mi sono fatto un appunto allora questo è il codice 1211 è un misto cotone si presenti rocche da 400 grammi e 100 grammi sviluppano 350 metri è una rocca di campionatura da collezione quindi anche qui parliamo di un filato molto pregiato è composto dal 70 per cento di cotone e dal 30 per di acrilico è consigliato l'utilizzo dei ferri 354 io però mi sento di consigliarvi un uncinetto 450 come minimo perché il filato è spesso poi mi ripeto dipende dalla mano e dal risultato che vogliamo ottenere bellissimo il colore spettacolare il filato molto morbido perfetto per realizzare un capo estivo l'azienda alane di bella cofil mi ha poi inviato un omaggio guardate che filato questo è un filato da collezione è un filato molto particolare a delle nuance di colore eccezionali si tratta di è composto da tre fili tre fili di colori diversi panna nero e rosa sono fili abbracciati fra di loro come dico sempre io come li definisco io e questo mix di colori crea un risultato molto molto bello guardate un po se riesco a inquadrarlo bene il filato è sottile infatti viene consigliato l'utilizzo dei ferri 2250 io penso di lavorarlo con un uncinetto del 3 anche qui poi in base a quello che voglio realizzare sceglierò l'uncinetto giusto però il 3 sicuramente un uncinetto del numero 3 vi do i riferimenti il codice ct 1203 questo filato è un misto cotone è composto dal 75 per cento di cotone e dal 25 per cento di acrilico ho già detto che è una rocca di da collezione quindi filato di un certo livello di un certo pregio la rocca è da 200 grammi e in 100 grammi si sviluppano 700 metri quindi vuol dire che questa rocca sviluppa 1400 metri insomma non devo aggiungere altro è molto bello molto morbido ma soprattutto è molto particolare le nuanze di colore sono veramente stupende io vi ho presentato alcuni filati che l'azienda l'anne di bianco fila mi ha inviato spero che vi siano piaciuti perché a me sono piaciuti tantissimo credetemi sono tutti i filati che hanno un loro perché scrivetemi nei commenti se i filati vi sono piaciuti se li avete già provati cosa ne pensate in descrizione vi lascio un codice sconto del 10 per cento per l'acquisto dei filati dall'azienda l'anne di bianco fila logicamente lo sconto è valido per i filati che non sono in promozione io vi saluto vi mando un grosso abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo video tutorial che sarà realizzato con i filati dell'azienda l'anne di bianco fila ciao grazie a tutti